Il corpo in avanzato stato di decomposizione di una persona anziana tienese di 83 anni è stato scoperto in città nella tarda mattinata di lunedì Zona Bosco all'interno di un alloggio del secondo piano di una palazzina, l'appartamento in cui l'inquilino, un uomo, viveva solo. Si trova in via San Gaetano. A chiedere l'intervento dei carabinieri e degli operatori del suo ma sarebbero stati vicini di casa allarmati dal forte odore proveniente dal secondo piano occupato dal pensionato. Una volta trovato l'accesso all'interno della proprietà, in questo caso senza che vi fosse la necessità di chiedere il supporto dei vigili del fuoco per forzare gli infissi, tutti gli incaricati hanno subito capito che si sarebbero presto trovati di fronte ad un cadavere. Il caldo degli ultimi giorni potrebbe aver accelerato il processo di decomposizione del corpo. Pertanto saranno utili analisi approfondite. L'anziano viveva solo. Secondo le prime testimonianze raccolte dai vicini presenti oggi in zona, pare che l'83enne non si vedesse in giro da almeno una settimana o forse più. L'identità dell'uomo è stata ritenuta sotto riservo in attesa di riuscire a contattare i parenti. Solo al termine di queste dedicate azioni si conoscerà il nome della vittima.